Come evitare di farci intossicare dalle persone negative? Nelle nostre vite, incappiamo spesso in persone negative che possono influenzare significativamente il nostro benessere. La loro visione pessimistica del mondo può facilmente trasmetterci ansia e malcontento, incidendo sulla nostra serenità interiore. Riconoscere i segnali di una persona negativa è il primo passo per proteggersi da possibili influenze dannose. Questi segnali includono costanti lamentele, pessimismo e la tendenza a demoralizzare gli altri con i propri dubbi. Mantenere una mentalità positiva è essenziale per contrastare l'impatto delle negatività altrui. L'ottimismo non solo ci protegge dallo stress causato da queste influenze, ma ci aiuta anche a vedere le situazioni da prospettive più costruttive. Per difendere il proprio benessere mentale, è fondamentale dotarsi di strumenti e strategie efficaci. Questi possono variare dall'impegno in attività rilassanti fino alla pratica regolare dell'esercizio fisico, contribuendo a mantenere un equilibrio emotivo. Un metodo efficace per preservare la propria pace interiore è imparare a stabilire limiti sani. Dire no alle richieste eccessive o alle aspettative irragionevoli è cruciale per proteggere il proprio spazio e il benessere psicologico. Nell'affrontare la negatività, l'uso della comunicazione assertiva emerge come un baluardo efficace. Essa permette di esprimere i propri pensieri e sentimenti in modo chiaro, senza aggredire o sottomettersi. Questa forma di comunicazione costruttiva facilita il dialogo aperto e onesto, ponendo le basi per risolvere i conflitti in maniera rispettosa. Riorientare la conversazione, chiedendo soluzioni piuttosto che rimuginare sui problemi, è un'arte che trasforma la negatività in opportunità. Incoraggiare le persone negative a concentrarsi su soluzioni concrete può aiutare a spostare l'attenzione dalle lamentele alla costruzione di un percorso positivo, promuovendo un approccio proattivo alla vita. Mantenere una distanza emotiva dalle persone negative senza necessariamente tagliare i ponti richiede una certa maestria. Questo non significa diventare insensibili, ma piuttosto imparare a non lasciare che le energie negative altrui influenzino il proprio stato d'animo. È un equilibrio delicato tra cura di sé e mantenimento di relazioni significative. Creare un ambiente positivo intorno a sé è un potente antidoto alla negatività. Ciò può significare circondarsi di persone che ispirano, motivano e sollevano il morale, così come personalizzare i propri spazi con elementi che evocano serenità e gioia. Un ambiente positivo nutre la mente e lo spirito, fungendo da barriera contro l'influenza negativa. Il supporto sociale gioca un ruolo cruciale nel gestire le persone negative. Avere una rete di amici, familiari o colleghi su cui contare per discutere delle proprie esperienze e sentimenti può fornire una prospettiva diversa e aiutare a non sentirsi soli nell'affrontare la negatività. Il sostegno reciproco è un potente strumento di resilienza. Riconoscere il momento giusto per cercare aiuto professionale è fondamentale. Quando la negatività di chi ci circonda inizia a pesare sulla nostra salute mentale, un terapeuta può offrirci strumenti personalizzati per affrontarla. Praticare la mindfulness aiuta a rimanere ancorati al presente, distogliendo l'attenzione dalle influenze negative. Questa tecnica ci insegna a vivere il momento, riducendo ansia e stress che spesso derivano da preoccupazioni future o rimpianti passati. Gli esercizi di respirazione sono alleati preziosi per mantenere la calma in situazioni di tensione. Respirare profondamente aiuta a rallentare i battiti del cuore e a rilassare la mente, offrendo una pausa ristoratrice dai pensieri negativi. L'autocura è essenziale per preservare la propria serenità interiore. Dedicarsi a attività che ci piacciono, come leggere, fare una passeggiata o ascoltare musica, può migliorare il nostro umore e rafforzare la resistenza alla negatività. Imparare a riconoscere e celebrare i piccoli successi quotidiani ci permette di costruire una visione più positiva della vita. Questo approccio ci incoraggia a valorizzare ogni progresso, alimentando la motivazione e l'autostima. Stabilire obiettivi personali è fondamentale per mantenere alta la motivazione. Questi traguardi servono come faro nella nebbia dei giorni negativi, guidandoci attraverso sfide e mantenendoci focalizzati sulle nostre aspirazioni più profonde. Trasformare le critiche negative in opportunità di crescita richiede resilienza e apertura mentale. Ogni feedback, anche il più duro, nasconde un nucleo di verità che può spingerci a migliorare, a patto di saperlo accogliere con spirito costruttivo. Le tecniche di visualizzazione possono essere potenti alleate nel mantenere una prospettiva positiva. Immaginare se stessi raggiungere i propri obiettivi o superare ostacoli può rafforzare la determinazione e la fiducia nelle proprie capacità. La gratitudine cambia radicalmente la nostra percezione del mondo. Concentrarsi su ciò che abbiamo, piuttosto che su ciò che ci manca, ci permette di valorizzare ogni momento e ogni esperienza, trasformando la negatività in apprezzamento. Iniziare la giornata con una routine mattutina incentrata sull'ottimismo può fare miracoli per il nostro stato d'animo. Dedicare tempo a se stessi, alla meditazione o a esercizi di gratitudine pone le basi per una giornata positiva. L'attività fisica è un potente alleato contro lo stress e la negatività. Muovere il corpo libera endorfine, portando a un immediato miglioramento dell'umore. Anche una breve passeggiata può fare miracoli per la nostra serenità interiore. Coltivare hobby e interessi personali ci permette di allontanarci dalle preoccupazioni quotidiane, offrendoci un rifugio sicuro dove ritemprare lo spirito. Questi momenti di evasione sono essenziali per mantenere un equilibrio psicofisico sano. Gestire le aspettative è fondamentale per evitare delusioni che possono alimentare la negatività. Imparare ad accettare che non tutto vada come previsto ci aiuta a vivere con maggiore serenità e a ridurre la frustrazione. Osservare i bambini e la loro spontaneità ci ricorda l'importanza di vivere il momento presente. La loro capacità di gioire per le piccole cose può insegnarci a mitigare gli effetti della negatività e a riscoprire la gioia nelle situazioni quotidiane. Sviluppare la resilienza Ci consente di affrontare e superare gli ostacoli che la vita ci pone davanti. Questa capacità di adattamento non solo ci rende più forti di fronte alle avversità, ma promuove anche un atteggiamento positivo che può influenzare positivamente chi ci circonda. Celebrare i progressi altrui è un potente antitodo contro la negatività. Riconoscere e lodare i successi degli altri non solo crea un clima positivo, ma ci ricorda che la crescita è possibile per tutti. Il perdono gioca un ruolo cruciale nel liberarci dal peso della negatività. Perdonare non significa dimenticare, ma scegliere di andare avanti. È un atto di forza che ci permette di focalizzarci sul presente. Le piccole gioie quotidiane sono spesso trascurate, ma hanno il potere di trasformare la nostra giornata. Riscoprire il piacere di un tramonto o il sapore del caffè al mattino può infondere felicità. Stabilire confini chiari con le persone negative è essenziale per proteggere il nostro spazio emotivo. Imparare a dire no e a distanziarsi quando necessario ci aiuta a mantenere la nostra serenità interiore. Il viaggio verso la positività è un cammino personale che si arricchisce condividendolo. Circondarsi di persone che supportano e comprendono questo percorso è fondamentale per mantenere una prospettiva ottimista sulla vita.